se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti perché è nuovo nel canale allora ragazzi oggi vi faccio vedere come moddare il terabyte unico requisito raga vi dovete far passare il terabyte da un vostro amico ok con il gift card to friends con il con to com che vi lascio in descrizione qua sotto quindi una volta che ve lo siete fatti passare e ce l'avete nel terabyte vi richiamate un qualsiasi veicolo che sta nel B2 l'importante è che il B2 del night sia pieno come il B2 interno il B2 del night ragazzi a questo punto vi richiamate il vostro com e una volta che avete chiamato la macchina dal B2 del night e avete il com richiamato con all'interno il terabyte prendete la macchina e andate a sostituire i veicoli quindi il terabyte andrà nel B2 del night ragazzi e la macchina andrà nel com a questo punto praticamente ragazzi abbiamo già fatto la parte più grossa semplicemente ci richiediamo un qualsiasi veicolo io prenderò un oppressor e andiamo raga al night una volta arrivati andiamo dalla serranda e andiamo direttamente nel piano B2 ragazzi dove abbiamo messo il terabyte io ora in questo caso avevo fatto il terabyte bianco ragazzi quindi ce l'ho come vedete questo nel garage del terabyte ora voglio quello F1 quindi cosa faccio una volta che l'abbiamo spostato e messo nel B2 ragazzi saliamo sopra clicchiamo freccia destra facciamo una modifica qualsiasi ragazzi e sbada bam avremmo moddato il nostro terabyte per l'appunto ragazzi adesso noi andiamo nel garage del terabyte vedrete che avremo praticamente passato tutte le modifiche sul terabyte originale ragazzi quindi raga a questo punto avremo praticamente doppiato i terabyte quindi se volete quello che avete nel B2 lo cancellate oppure vi li collezionate quando vi gira vi fate una modifica e vi cambiate il vostro terabyte quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Exavix se vi è piaciuto il video mi raccomando condividete supportate il canale raga e niente, alla prossima bella raga iscriviti al canale iscriviti al canale